La scarsa informazione da parte dei proprietari di cani riguardo le caratteristiche di razza e le loro esigenze etologiche genera un allarmante fenomeno, quello delle rinunce di proprietà. Il cucciolo, acquistato con superficialità e inconsapevolezza, una volta diventato adulto, si rivela impegnativo e finisce per passare la sua vita dietro le sbarre di un canile, con la scarsa probabilità di essere adottato e con un costo importante per la collettività. Il gruppo Facebook, l'altra parte del guinzaglio che sta per diventare associazione, ha realizzato un sondaggio dal quale emergono dati che fanno riflettere su quanto sia importante adottare un animale consapevoli di quale sarà l'evoluzione in base alla sua indole. Sì, il dato preoccupante che è emerso è che soltanto il 2% delle aggressioni avviene da parte di cani randaggi, quindi i cani sono cani di proprietà condotti in maniera irresponsabile, senza guinzaglio, oppure fuoriusciti da cancelli lasciati incustoditi. Poi di questi dati l'ancor più preoccupante è che soltanto il 25% di queste aggressioni vengono denunciate, per cui effettivamente abbiamo una scarsa percezione di un fenomeno che è tristemente dilagante e riempie pagine di nostri giornali di casi veramente preoccupanti a danni sia di animali ma anche purtroppo a danni a causa di persone, insomma a causa danni alle persone. E tra l'altro le adozioni irresponsabili causano la maggior parte delle rinunce di proprietà, che è un'altra piaga? Purtroppo la rinuncia di proprietà è un fenomeno anche questo in grandissima crescita, cani che vengono presi da cuccioli perché molto carini e privi insomma di una conoscenza da parte del proprietario ed una volta cresciuti i cani vengono portati in canile perché difficilmente gestibili. E allora qui è sempre l'appello di adozioni consapevoli per poter avere poi una convivenza pacifica e che sia veramente un valore aggiunto per tutti noi. Il suo impegno per il futuro è quello di coinvolgere maggiormente anche il Comune di Chieti, l'amministrazione, chiedendo cosa? Allora innanzitutto che vengono istituiti percorsi di formazione obbligatori sia per i cani mordacci che per tutti gli altri tipi di cane e invito la popolazione quando sarà a frequentare questi corsi e insieme al Comune ho proposto con l'associazione costituente dall'altra parte del guinzaglio anche delle giornate di consapevolezza e formazione sul mondo animale, sul mondo del cane che è un mondo bellissimo ma che bisogna conoscere rispettandolo e tirando fuori il meglio che si può da questa convivenza.